Parliamo come due uomini della strada normali, degli argomentoni, trattati però in molto poco tempo. Hai presente quando in ascensore? Certo, vai, 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 ma ho capito, ho capito, le pillole vuoi. Le pillole vuoi? Hai presente? Tu vuoi un ascensore a casa tua? Dipende, ora sì, ora sì, devo dire, in una delle tante case. Simuliamo la scena, io sono il tuo vicino di casa, va bene? Bene, ci vediamo giù all'ingresso, abbiamo il tempo da 0 a 1, ok, per affrontare tre macro temi. Sei pronto? Vai, schiaccia il primo tasto, entriamo in ascensore. Bam. Oh, ciao Diego, ma il rap come va? Ma il rap va bene, sto cercando di portare la luce il più possibile. Ma questa scena nuova, nuovissima, ti rappresenta? Sei tu? Stiamo arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Madonna, cos'era, un piano e mezzo. È un piano e mezzo, però la risposta sarebbe stata bella averla. Eh sì, no, niente, cosa penso? Io penso che sono contento che ci sia finalmente così tanto rap in Italia e semplicemente spero che ognuno nel proprio piccolo cerchi di portare la meglio versione di sé possibile. Perfetto, facciamoci un altro giro in ascensore, è il giorno dopo, sono sempre il tuo vicino di casa, ci vediamo giù. Oh Diego, ma in America si sta votando, hai visto queste elezioni? Eh sì, ho visto abbastanza. Ma cioè se tu avessi avuto Trump? Trampolino. 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 Cosa devo dire, cosa devo dire? Niente, ciao bella, domani. Molto bella, voglio farla tutti i giorni, questa cosa con tutti. Perché poi in ascensore si crea... Hashtag, scusami, questo la propongo, hashtag buttati per Donald Trump, è l'unica cosa. Beh, però in America in queste ore stanno votando, no, le elezioni di midter, ma argomenti... Ne vuoi fare un'altra? Facciamo un'altra, rientrare in ascensore. Il giorno dopo... Quattro piani dammi per l'articolo. Ciao, ciao Diego. Oh, ma la Juve? La Juve? L'unica domanda che potevi non farmi, caro vicino mio, è quella, cioè proprio... Perché non sei Juventino? No, non seguo molto il calcio, devo dire. Cosa che non tifi niente, eh? Ma sai che neanch'io? No, solo la tifoseria. Tu tifi la tifoseria? Certo. Mi piace questo. Oh, allora... A domani. A domani. Ciao. Ciao. Ehi, arriva Piozzo. Vai, allungato. Perché si crea l'imbarazzo, no? Allungato sul calcio.